Salve ragazzuoli! Allora, continuiamo con il gameplay di Loom e cominciamo ad adentrarci nel territorio della Gilda dei Fabri. Qui vediamo che c'è un ragazzino addormentato. C'è strano posto per fare un sonnellino. Qui c'è una tomba. Vediamo che cosa c'è scritto. Queste lapidi sono fatte di blocchi di metallo, quindi queste probabilmente sono le tombe dei Fabri. Ok, e vediamo che... Volevo dare un'occhiata al panorama, però non me lo fa... non mi fa andare qui, no. Comunque, insomma, qui si vede che c'è una grande città fatta a forma di incudine. È chiamata La Forgia ed è la città-stato dove vive la Gilda dei Fabri. Ok, proviamo a svegliare questo ragazzino utilizzando l'incantesimo della trama del sonno al contrario. Nella versione Expert non sono nemmeno indicate le sezioni del bastone, quindi è un po' difficile beccarle al primo corpo. Ok, ha avuto effetto. E il ragazzino si sveglia. Mi ha beccato mentre dormivo. Non ho visto mai nessuno vestito come te prima d'ora. O come ti chiami? Bobbin Treadbear, della Gilda dei Tessitori. Tessitori? Ecco perché i tuoi abiti sono così belli. Il mio nome è Wellwrote, ma tutti mi chiamano Rusty, Rusty Nightbender. Dovevo raccogliere della legna per il fuoco, ma questo piano oro è stato completamente ripulito. Qual è la tua Gilda, Rusty? Seguimi, te la mostrerò. Ah, ok, ecco qui che ci fa vedere la forgia. Ok. Questa gigantesca... Questo siamo noi, la Gilda dei Fabri. Non l'avrei mai immaginato. La nostra città è stata qui fin da prima delle ombre. La chiamiamo la forgia. Allora, cosa ti porta da queste parti, Tessitore? Sto cercando uno stormo di cigni. Ne hai visto uno passare? Mi dispiace, niente i cigni da queste parti. Molti avvoltoi invece. Ah, tutto questo mi ha fatto venire sonno. Beh, svegliami se trovi due cigni. Non ne ho mai visto uno prima. Ok, e si rimette a dormire. Questo ragazzino è quello che sarebbe dovuto essere il protagonista del sequel di Loom, che appunto si chiamava Forge, che non è stato mai realizzato. Così come la pastorella che abbiamo incontrato prima, sarebbe dovuta essere la protagonista del terzo gioco. Arriva un fabbro e ci dice... Chi va là? Solo io ho un amichevole straniero. Un amichevole straniero. Questa è una gilda privata, mio giovane amico. Il cancello si apre solo per i membri. Adesso va, te ne prova e vai a giocare da qualche altra parte. Ok. Lui adesso se ne va. E noi possiamo provare, per esempio, ad aprire il cancello usando l'incantesimo dell'apertura. Funziona. Il cancello si apre. Proviamo a entrare. Però appena proviamo a entrare, ci buttano fuori. E ci dicono fuori. Perché l'ingresso è riservato solo ai membri dell'agenda. E allora noi adesso dobbiamo usare un po' di inventiva per farci passare per un membro dell'agenda. Dei fabbri. Andiamo qua. Qui c'è ancora Rusty che dorme. E proviamo a lanciare su di lui l'incantesimo della riflessione. Se è questo. Si. Funziona. E vediamo che la nostra immagine si è riflessa con la sua. I nostri abiti si sono cambiati. E adesso noi abbiamo l'aspetto di Rusty. E quindi questo ci permetterà di entrare. Quindi vediamo se questo signore ci riconosce. Infatti ci dice. Ah, Joe è un nail bender. Salve. Stoke ti sta cercando e sembra molto arrabbiato. Farai meglio entrare velocemente. E lui stesso ci apre il cancello. Entriamo. E questa è la forgia. Dove ci sono tutti i fabbri all'opera. E stanno tutti quanti preparando qualcosa con le loro inquidini. Non possiamo parlare con nessuno. Però possiamo proseguire avanti. Ed arriviamo da questo signore. Ebbene, bene, bene. Se non è il mio fedele e instancabile apprendista. Rusty nail bender. Salve signor Stock. Ah, guarda. Mi ha portato un bastone di legno. Esattamente un vecchio bastone per bruciare la mia fornace affamata. Come bastone da legno. Idiota, pigro idiota. Ti ho mandato quattro ore fa a raccogliere legna e tu osi tornare con un solo bastone? Se il tuo padre non fosse il capo della gilda ti butterei nella fornace. Fortuna per te che si trova giù a parlare con il vescovo in questo momento. Se quella fornace si spegne le spade del chierico arriveranno in ritardo. Forse vorresti chiedere perdono al vescovo in persona? Sarò felice di organizzare la cosa. Dammi questo bastone. Lo prende e lo butta insieme alla cadastra della legna. So cosa fare con te. E ci chiude in prigione. Tornerò in Nightbender e non sarò da solo. Ci ha levato il bastone e ci ha chiuso qua dentro. Noi non possiamo fare più niente perché non abbiamo il bastone. O con occhia o rocca che dir si voglia. Quello che possiamo fare però è di metterci a dormire. Sembra abbastanza comodo. Che sonno. Qualcuno deve aver lanciato un incantesimo del sonno su questa paglia. E comunque non posso fare niente senza la mia rocca. e si mette a dormire. Però a un certo punto torna il drago con la foto abbruciacchiata sorvola il cimitero e nota Rusty con i nostri abili. Arriva e dice spaventare un povero vecchio come me. Che coraggio. Non sarò bravo con il fuoco dolcezza ma la carne giovane è qualche cosa che mi piace veramente. E quindi vediamo che noi ritorniamo al nostro aspetto originario e questo vuol dire che Rusty è stato è stato ucciso dal dal drago. Deve essere successo qualcosa a Rusty. Spero che stia bene. In realtà no. vediamo che il nostro bastone la nostra rocca si trova lì e dice abbiamo solo mi è rimasto solo un bastone un pezzo di legno e la la fornace non rimarrà accesa ancora a lungo. Raccoglie il nostro bastone e lo butta sul fuoco. Diecimila spade da forgiare e la fornace è quasi fredda. Diecimila spade come le diecimila pecore che avevano chiesto. I chierici hanno commissionato delle diecimila spade al al ai fabbri è colpa questo è colpa del ragazzo del ragazzo del ragazzo tessitore. Se riesco a metterci le mani addosso vedete che una volta che è morto abbandona il tessuto della realtà per entrare in un'altra dimensione da cui esce madre Hatchel sono ritornata nel tessuto peccato che qualcuno abbia dovuto morire per farmi per consentirmi di rientrare. Un drago povero povero ragazzo dove può essere andato Bobbin? non può essere lì i fabbri sono sono sospetti sono molto sospettosi non lascerebbero mai entrare un tessitore e vediamo che il fumo che esce da quella fornace ha l'aspetto di un cigno e lei capisce che devo andare a darci un'occhiata evidentemente è il fumo che si sta sprigionando dal dal nostro bastone madre Hatchel in forma di papera entra in una delle ciminiere dei grossi camini cosa mi tocca fare? entra nel cammino della fornace cosa direbbe l'anziano Atropos se vedesse come trattiamo il suo bastone lo recupera e ce lo passa sotto la porta ok possiamo recuperarlo e adesso siamo di nuovo in affari quello che possiamo possiamo per esempio non so se serva a qualche cosa però possiamo provare a trasformare questa pietra in oro e lui dice sembra che la mia rocca funzioni ancora ok perfetto adesso possiamo anche aprire il e no non era così era così possiamo aprire la porta e possiamo uscire per esempio c'è questo 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 recipiente per il legno possiamo provare a riempirlo non so se serva a qualche cosa si riempie di legna non so se serva a qualche cosa vabbè a questo punto possiamo scendere di sotto dove ci hanno detto che si trovava il chierico vediamo che c'è un qualcuno che sta preparando una spada arriva il chierico mandible e comincia a parlare con un fabbro che dovrebbe essere il padre di di rasti e cominciano a dire la spada finale sta venendo affilata in questo momento vostra eccellenza i miei affilatori più più talentuosi se ne occupano personalmente questo è un momento storico fabbro nail bender la forgiatura di 10.000 spade marca segna all'inizio la fine dei nostri preparativi come va l'affilatura edgewise questo metallo è molto orgoglioso mastro fabbro non si piega facilmente ancora più sudore lo lo morbidirà vero? sarà una spada con cui tutti dovranno fare i conti la spada of reckoning mi piace ha un ha un suono apocalittico assumo che il tuo affilatore non non mi farà aspettare ancora molto si piega il metallo edgewise lo lo sottometterò a forza di martellare martella più forte perché il nostro cliente è molto impaziente solo il tempo può modellare questo nobile acciaio ma raddoppierò i miei sforzi i teschi si spezzeranno alla sola vista di questa di questa lama così affilata non ho mai dubitato della abilità della fattura dei tuoi materiali infatti i tuoi fabbri mi hanno casato molto meno problemi delle altre gilde il tuo servizio leale non sarà dimenticato nell'ora del giudizio che arriverà fra breve quindi questi 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 chieri ci hanno qualche cosa in mente adesso noi dobbiamo fare qualche cosa su questa su questa spada nel momento in cui viene sollevata possiamo fare qualche cosa però dobbiamo di nuovo mettere in modo la conversazione ok e dobbiamo togliergli l'affilatura suonando al contrario la trama dell'affilatura vediamo se funziona no mi sembrava che era questa dobbiamo aspettare che la solleva verso il cielo questa è la la trama dell'affilatura che abbiamo sentito nella città di crystal guide mi pare che era così ok sono riuscito a suonare al contrario la trama dell'affilatura che e quindi la 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 spada perde il suo filo cosa è successo una maledizione di una di una strega ha colpito la 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 spada le i bordi non sono più affilati una una maledizione non credo non non credo che una una la maledizione di una strega possa interferire con i miei piani e suppongo non credi che quel ragazzo che si trova laggiù a spiarci abbia qualcosa a che fare con tutto ciò quindi ci hanno scoperto forse vuole accompagnarmi ok quindi veniamo catturati potrei avere nuove maledizioni da insegnarvi quindi veniamo catturati vediamo il drago che ancora va in giro e questo è il castello dei ah no no questo non è un drago un'altra cosa è il castello del chierico permettimi di presentarmi mi chiamo sono il vescovo mandiboll transultimo apostolo del conclave antisecolari dei chierici dovrei inchinarmi a qualcosa del genere silenzio prigioniero questo è il mio assistente cob incantato il tuo i tuoi abiti e il tuo bastone tradiscono le tue origini ho studiato la storia della tua gilda all'università è stato è passato molto tempo da quando un tessitore ha osato mettere mettere piede fuori dalla loro da quella roccia che chiamano casa room non posso far altro che immaginare cosa ti ha costretto a farlo la sua eccellenza ti ha fatto una domanda lo so ma lo sto ignorando ah recalcitrante vedo dovrei utilizzare gli strumenti devo tirar fuori gli strumenti di persuasione eccellenza perdona la mia l'ostelità del mio assistente temo che cob non sia di molte parole non non si rende conto quanto possa essere pericoloso un tessitore pericoloso lui pensi che questa gabbia di ferro sia abbastanza per tenere il prigioniero questo ragazzo beh potrebbe perché lui potrebbe uscire ad aprirla nel giro di un secondo ma eccellenza io controllo i lucchetti tutti i giorni tutti i giovedì osserva impara cioè mio servo in questo stesso momento il nostro prigioniero pianifica la sua la sua fuga infatti noi dato che abbiamo ancora il nostro bastione possiamo semplicemente aprire la gabbia con la trama dell'apertura la apriamo facilmente vedi cob una razza elusiva questi 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 tessitori fortunatamente sono assolutamente inutili senza il loro senza i loro bastoni di tessitura ridammelo osi alzare la voce con sua eccellenza dai cob non dobbiamo essere scortesi con il nostro ospite non dopo che lui è stato così gentile da portarmi un dono così magnifico mandibola quella quella rocca non ti sarà di nessun aiuto e qui ti sbagli mio arrogante giovane amico vieni lascia lascia che ti mostri il perché hai sentito l'esaltato muoviti consideri vedi questo comune cimitero nei cimiteri il confine fra i vivi e i morti e i vivi e i morti in qualche modo indistinto voi tessitori direste che qui il tessuto è fragile ma non qui in qualsiasi cimitero lo credo anch'io ora immagina cosa potrebbe succedere se i delicati confini questi delicati confini siano in qualche modo spezzati o aperti come per così dire non ci pensare nemmeno mandible non puoi aprire il tessuto come se fosse uno straccio qualunque ma si che posso tutto quello di cui ho bisogno è una rocca di un tessitore e le quattro note della della trama dell'apertura grazie per avermi portato entrambi quando i confini quando il confine sarà aperto i morti entreranno nel piano dei vivi e vorranno riclamare il loro posto fra di noi e io sarò in attesa in loro attesa pronto pronto a offrire la mia vasta esperienza di leadership spirituale presiderò una gigantesca moltitudine di ombre senza tregua immortali invincibili un'armata di morti con io con me come loro comandante supremo un'arma nutrita dalla carne dei pastori armata con le spade dei fabbri e guidata dalle sfere dei vetrai ecco a cosa gli servivano tutte queste cose mi stavo preparando per invocare i morti per usando altri altri mezzi più più mezzi diversi i vetrai mi hanno portato la sfera mi ha predetto il tuo arrivo ora mi mostra che i fabbri stanno riparando la spada che tu hai rovinato l'era dei chierici sarà presto su di noi cob non lasciare non non fartelo sfuggire non non perderlo di vista non lo farò a vostra eccellenza e non lasciargli toccare niente adesso vediamo che il pazzo mandiboll signor mandiboll governatore dell'universo devo cambiare la mia carta intestata non sei così pericoloso adesso ok a questo punto abbiamo ripreso il contatto del gioco va bene direi che per questo video ci fermiamo qui nel prossimo video concluderemo il gioco come vedete è piuttosto breve si finisce abbastanza rapidamente non ci sono molti enigmi da risolvere comunque come vedete la storia è abbastanza vincente interessante quindi credo che valga la pena di giocarlo almeno una volta nella vita ok è stato molto divertente ci vediamo alla prossima ciao